Il primo successo in campionato ottenuto contro la Viterbese ha trasmesso più tranquillità al Teramo che sabato affronterà in trasferta alle 17.30 la Pistoiese. I toscani occupano la quart'ultima posizione in classifica con cinque punti e sono ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga. Tra le Muramiche hanno pareggiato con il Grosseto e perso con Reggiane e Anconica Matelica. La Pistoiese sotto la guida tecnica di Davide Sassarini ha evidenziato in questa prima fase di stagione diversi problemi in difesa che ha subito finora complessivamente la bellezza di 12 reti. I toscani inoltre non potranno contare sul difensore centrale Ricci squalificato mentre il reparto offensivo sarà composto da pinzauti due gol realizzati in coppia con il temibile attaccante Vano. Per i biancorossi non sarà una passeggiata dunque domani allo stadio Melani anche se l'obiettivo principale dovrà essere la continuità di risultati sperando che gli attaccanti inizino a fare gol e regalare così i primi tre punti in trasferta. Federico Guidi dovrà valutare le condizioni del centrale soprano e dell'attaccante Chiere Mateng non potrà contare su Mungo e Tresciani ancora infortunati mentre Bois sarà assente per la chiamata della nazionale under 20. Al centrocampo potrebbe tornare Viero a spese di Rossetti. Sarà sicuramente confermato Cucurullo dopo i due gol consecutivi realizzati. La direzione di gara sarà affidata a Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1 con il quale non si ravvisano precedenti con i biancorossi.